L'intento è chiarissimo già da 1 a 9 e mezzo di rilevare la FIMER e di dare gli strumenti al senso largo, non solamente i soldi, però anche tutti gli accessi a diversi mercati e speriamo che possiamo andare davanti tutti insieme nei prossimi giorni e settimane. A suonare i cancelli della FIMER è stato direttamente lui il massimo rappresentante di Clementi, alla guida della realtà specializzata in ristrutturazioni aziendali. Nello stabilimento di Terra Nuova Bracciolini era infatti in programma il faccia faccia tra il fondo inglese che ha avanzato un'offerta di acquisto, lavoratori e organizzazioni sindacali. La nostra cautela che abbiamo oggi nelle dichiarazioni, essendoci già passate altre volte, è quella di non avere di qui ai prossimi giorni spiacevoli testimonianze o spiacevoli sorprese che possano far sì che non si concretizzi l'intervento di questo investitore. Clementi è stato abbastanza chiaro, come era stato chiaro a suo tempo Greybull, crede nell'azienda, ha volontà di intervenire, sta predisponendo anche una roadmap fatta di momenti dove verrà presentato il piano, dove verranno immessi i capitali. Il fondo inglese ha annunciato l'impegno di versare i primi 5 milioni entro il 6 agosto, altri 17 e poi entro il 21, giorno in cui il Tribunale di Milano ha fissato l'udienza decisiva per la concessione del concordato 95 in fine conclusione. Siamo disposti a rilasciare garanzie sia per i clienti che per i fornitori per fare che l'azienda riparte oggi sulla produzione piuttosto che avere tutti quello che ha bisogno per andare davanti a scuola. Abbiamo percepito la volontà da parte di Clementi di dare subito un cambio di passo importante provando a trattare con i fornitori e quindi se la strada è quella giusta si vedrà nei prossimi giorni perché se trattando direttamente con i fornitori magari arriva più materia prima noi potremmo vedere per esempio la saturazione delle linee o comunque un riavvio della produzione con numeri più importanti.